Sì. Ingegnere, ecco, questi sono i referti. Ah, ecco, questi sono i risultati. Sì. Pezzi di cavi di rame. Sì. Scusa, ma a che profondità avete scavato? 50 metri circa. 50 metri, 50 metri... A che epoca arriviamo, quindi? 25.000 anni fa. Eh sì, 25.000 anni. Incredibile! Quindi a 25... Certo, perché questa è una scoperta sensazionale. Che praticamente cavi di rame 25.000 anni fa significa che gli antichi lombardi avevano una rete di telefonia già 25.000 anni fa. Signore, facciamo cosa. Questa notizia la mette su un bel foglio di carta, la manda a tutti i giornali. Va bene? Va bene. Grazie. Colleghi! Sì. 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 Ho mandato la segretaria a far già il comunicato stampa, la grande. Non si scalda assai, ingegnere. Non si scalda assai. Perché? Io, proprio il mese scorso, ero direttore dei lavori a Roma, eh? Nella provincia di Roma. Noi abbiamo scavato a 100 metri di profondità. 100 metri? 100 metri. Che a quanto equivale in tempo? Ehm, 35 mila anni fa circa. Insomma, abbiamo trovato i pezzi di cristallo. Cioè, sapete che significa pezzi di cristallo? Significa che 35 mila anni fa gli antichi romani avevano un sistema di telefonia basato sulle fibre ottiche. L'hai capito? È matematico sto parlo. Eh sì. E tu ti stavi scaldando assai, ingegnere? Eh, no. Va bene. Uno fin quando... Come ragazzi, c'è questo punto? Colleghi ingegneri, devo dirla mia. Certo? Lasciamo stare le altre regioni, in Puglia. Beh. Abbiamo preso proprio in tutta la Puglia, abbiamo preso da tante zone a campione. Sì. Ma che vi devo dire? Gargano, Alberobello, fino a Santa Maria di Regola, Tudicastro, tutto. Abbiamo preso a campione. E abbiamo scavato fino a 200 metri di profondità. 200 metri significa quanti... Significa, se fai il caldo, sono 55 mila anni fa. Più o meno. Sì. 55 mila anni fa sono parecchio. Che cosa avete trovato? Niente. Niente? Non abbiamo trovato niente, niente, fino a 200 metri non ci stavano, niente. Avete trovato? Niente. Niente. C'era la conclusione quale? La conclusione? Che già da allora avevamo i cellulari noi. Stava il Nokia, stava l'Elsa. Ehi, non siamo.